Da un po' di tempo che non sentivo il mio amico di origine argentina Schiada Muortis e allora ho voluto salutarlo. Ciao Schiada, come stai? E come posso stare? Ha risposto. Si sta come d'autunno sugli alberi le doglie. Non so dove andremo a finire. Ma hai sentito Schiada che si comincia a sentire di qualche contagiato in meno? Eh caro mio, ma hai visto i morti? Eh sì, purtroppo, ma un filo di speranza comincia a trappelare, dai. Un filo di piombo per impiccarci, amico. Siamo una razza in via di estensione. Sarà, ma comunque è tutta questione di fiducia, Schiada, di speranza nel futuro. Sì, speranza di trovare spazio nei cimiteri. Qui ormai saranno più seppelliti che i seppellitori. Come diceva quello lì, lasciate che i morti seppelliscono i morti, se non sono già morti da vivi. L'altra sera ho sentito un virologo che parlava di una luce in fondo al tunnel. Sì, la luce di un frecciaroso che ti sta venendo addosso. L'altra volta ho aperto l'ascensore e c'erano i cadaveri del mio delimpetaio e delle infermiere con il tampone ancora in mano. No, ma dai, se resistiamo andrà tutto bene. Ah, per il corona sì, si leccherà i baffi. Quando di noi non resteranno che le tibie e i denti d'oro. Dai, che forse quest'estate potremmo tornare in spiaggia dentro le cabine in plexigas. Per cuoceci a fuoco lento, così il virus ci troverà già bruciacchiati e croccanti. Ma intanto c'è la speranza di rivedere il mare, anche dietro un vetro. E perché non direttamente dalla bara? Delle belle bare aperte col coperchio in plexigas e il rumore delle onde. Mi sembra un pochino negativo, schiada. Io sono realista, amico, siamo fottuti. Eh già, ma che cos'è questo rumore, questo scroscio d'acqua? No, amico, è lo scroscio del bagno. Da 40 giorni ho un po' di diarrea e mi sono permesso di non interrompere la telefonata mentre ci parlavamo. Perdonami, siamo nella merda. Ma figurati, schiada, finisci pure. Anzi, perché non provi la cura che non ti farà più pensare al virus corona e alla strage dell'umanità. E quale sarebbe, ha detto, mentre sentivo lo strappo della carta igienica. Lasci lo scroscio per solo i 5 minuti. Tuffi la testa nel water e te ne stai lì, senza respirare. Vedrai che il pensiero del virus se ne andrà dal tuo cervello, ovviamente insieme a te, schiada mortis.